ciao in questo video realizzeremo le ghette per la bambola faremo la cucitura seguendo la linea dopo aver ricalcato le ghette due ghette uno contro l'altra a specchio facciamo una cucitura dritta facendo avanti indietro sul sul punto dove si incontrano per assicurarsi che non si scioglie il filo tagliamo tutti i fili e ritagliamo le ghette lasciando 3 mm dal bordo della cucitura rigiriamo ora possiamo indossare la ghetta direttamente sulla gamba prima su una poi sull'altra la cucitura va dietro la portiamo fino in fondo e la sistemiamo se sei nuova sul mio canale o stai guardando sulla pagina instagram ti dirò subito che ho già pubblicato altri video riguardanti il corpo quindi potrai andare a rivederli prima potrai fare il corpo e poi rivedere questo video iscriviti anche alla mia pagina instagram e al mio canale youtube se non ti sei ancora iscritta per e più già anche la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video per ringraziarti dell'iscrizione ti voglio regalare il carta modello di questa bambola che potrai trovare seguendo il link nella descrizione oppure sulla mia pagina instagram nella bio il carta modello è su una pagina a 4 potrei stamparlo uno per uno ora fissiamo le ghette con un po di colla istantanea con una gocciolina qua e la passiamo direttamente sulle gambe si può utilizzare anche la colla a caldo e 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 quindi in questo video abbiamo realizzato le ghette nel prossimo video andremo a realizzare i pantaloncini attacchiamo le gambine al corpo quindi se non ti sei ancora iscritta al mio canale o la mia pagina iscriviti e noi ci vediamo nel prossimo video oggi ti saluto ciao ciao